Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video! Oggi proveremo a fare qualche partita su Fortnite per vedere il risultato e vediamo anche se questo gioco vi può interessare sul canale diciamo che ci ho fatto qualche partitina, mi piace comunque come gioco perché sapete che sto aspettando PlayerUnknown e quindi diciamo che nell'attesa può essere un buon sostituto Annaggia a voi! Oh! Sono saltato avanti! Ha interrotto il mio divertimento Raga io voglio andare qui Quindi andiamo subito Perché vanno tutti alle cittadine invece lì c'è un campo con le auto Che ha tanta roba Comunque qui nei pressi insomma Qui, qui, in questa casa io andrò Dai for cortesi signorina Si sbrighi Vada! Vada! Vada signorina vada! Dai ma come fa quella a scendere così veloce? Senza le munizioni capisci? Oh si col fucile a pompa Dai ragazzi Ma possibile mai con un fucile a pompa? Ma che cosa gli racconto con una mitraglietta? Comunque ci ha fatto capire che comanda lui Io farei anche di così Ma dove sta la cassa ragazzi? Ah so Dai ma che cosa è impossibile ora? Mi fai perdere più tempo te? Ok Vai Eccolo lì guardate Lo stronzetto Prendiamoci dal nostro beverone ragazzi Ma 5 di vita! Che cosa streusa? Ma stiamo scherzando? Niente Quello si è impadronito della casa ragazzi E chi gli dice niente? Quello c'è un fucile a pompa Ah ma questa è la torre Quella lì che ce l'ha grossa Andiamo Il premio ce l'ha grosso comunque ragazzi Andiamo con la nostra mitica mitraglietta Facciamo fuori ogni pseudo persona che si avvicinerà a noi Che cosa si avvicinerà a noi Ok Non c'è venuto nessuno Non ci credo ragazzi Ma intanto mi piglio un po' di legno Che male comunque non fa Ma non ci credo C'è tre ragazzi Interferenze radio Comunque siamo un tantino fuori credo Madonna Ok ragazzi Corriamo come Catwoman Per raggiungere l'obiettivo Di rientrare nel raggio della Oh mio di te le bende così aggredi E io mi bendo tantissimi Che cosa non è pronto vai Ok sta partendo la nube Tra poco saremo nella merda Ma intanto curiamoci Va bene dai per adesso Vaffanculo le munizioni Ragazzi Tanto non ci abbiamo neanche le armi Che cavolo andiamo a pigliarle Oh un'arma Dai Scappiamo via Andiamo basta Fai c'è qualcosa A questo punto Anziché tre mitraiette Mi prendo Un revolver Cioè ma voi vi rendete conto Che armi c'ho Almeno ho trovato il pompa Ragazzi Il revolver è buono Però fino a un certo punto Voglio dire Non è che può fare miracoli Io ho sempre paura Che ci sia qualcuno nascosto A farmi Immenso Tipo Tantissimo Vedo Cose lì Armiamoci di pompa Niente Ok ragazzi Siamo entrati nell'aria Però il problema È che non abbiamo Roba Cioè abbiamo Malappena Questo Fucile verde A pompa E un revolver Bianco Ma Sinceramente Revolver Ma stanno sparando A me Ma si stanno sparando Tantissimo Ma questo è un cecchino Ma chi vese in cura Dove ho portato tantissimo Me ne vado qui qua Oh Ragazzi ci sta qualcuno qua Guarda dov'è quello Guarda dov'è quello Guarda mi si nasconde Io non credo che mi abbia visto Ma fa un casino Sto revolver però Guardate come si è barricato Fiero Guarda lì Ora come ne uscirò Da questa situazione Siamo pronti Al devasto Ragazzi Dai per forza qui deve stare Eccolo Eh ma se vuoi venire Quello c'è fucile dal salto Ragazzi Guarda 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 lì fiera Guardala Guardala guarda Dai Dai Molto più brava a sparare È andata malissimo Malissimo Salva Perché sei così cattivo con me Vi faccio l'ultima L'ultima è in pasta Ragazzi andiamo a fare il devasto Tutti qui Va bene Andiamo lì Quindi deciso Via Dove qui è A picco a picco Scendi Scendi Ma c'è un modo Per scendere Più veloce Sì credo che sia questo Girare a tondo Eh no Tre ore Per salire da sopra Neanche ci sono salite E mi incastro Sempre Il ferro Che gli tiro Le barrette di ferro Ai miei nemici Eh Quello lì Ha preso subito La pistola Ragazzi Dobbiamoci dai coglioni Qui ovviamente Ci sarà gente Quello già spara No Questo è mio È tutti i costi Eccola Oh mio dio Ma stava lì Ragazzi Sta cercando Il tesoro Mi devo curare Ragazzi Guardate che situazione Ci sta quella dentro Che cercava il tesoro Io l'ho rubato Che stava qua fuori L'ultima benda Dai Ma non ci credo Se n'è andata Eh dai Meno male Che non aveva armi Perché ragazzi Mi avrebbe fatto Questo fucile è bruttissimo Non sta un altro Ok Ok Sta qua il tesoro Bello Il fucile da sotto Quello è buono Ok Quello è lo scudo Ragazzi Guardate lui pensa Che sia quella Sta ricaricando Secondo me Si sta anche No Mi ha preso dietro il muro Mezza l'arte Non volevo Dai Come si fa Vaffaculo Basta Basta Ho registrato Già tantissimo Prenderò degli spezzoni Poi registreremo meglio Se no sti cazzi Oggi non uscirà nessun video Fatemi sapere Se questo video vi è piaciuto Con un pollicione Ragazzi Iscrivetevi al canale Se non l'aveste ancora fatto Condividete Commentate E noi ci vediamo al prossimo video Ciao